Dal libro di Poi, non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore, non sia talenti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è l'uncello e tu sei sulla terra, perciò le tue parole si non partono, poiché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello storto, quando hai fatto un voto a Dio non indugiare e soddisfarlo, perché Egli non ama gli storti, adempi quello che hai promesso, è meglio non far voti che farli e poi non mantenermi, non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e non dire davanti a un messaggero che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi delle tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. Abbi dunque il timor di Dio, chi ama il denaro mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza non ne trae il profitto, anche questo è vanità. Con il crescere del bene i parassidi aumentano e qual vantaggio ne riceve il padrone, se non di vederli con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto malanno ho visto sotto il sole, ricchezze custodite dal padrone a proprio danno, se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito giusto dal greco di sua madre, così se ne andrà di nuovo come era venuto e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questo è un brutto malanno, che se ne vada proprio come è venuto. Qual vantaggio arcava ad aver gettato le sue fatiche al vento? Inoltre, avrà passato tutti i suoi giorni nell'oscurità e nel bianco fra molti guai, malanni e cruci. Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori e non gli manca niente di quanto desidera. Ma Dio non gli concede di poterne potere. Perché è un estraneo che vi gode. Ciò è valentà e malanno grave. Si arrodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il santissimo, il divinissimo sacramento. La sofferenza del cuore detto, questa sera ci porta a considerare due aspetti molto importanti nella nostra vita di cristiani. Io, quando leggevo questo brano, questa sera mi sembrava veramente, insomma, non lo dico per così, insomma, di sentire l'eco di tante esortazioni che il Papa Francesco ha rivolto tantissime volte ai fedeli. Quindi, attenzione alla lingua e attenzione al denaro e alle ricchezze. Perché sono due baluanti, diciamo così, due fronti privilegiati dell'azione ordinaria del diavolo. Il diavolo non dobbiamo tenerlo né soltanto, né principalmente nelle sue smargessate straordinarie di un tanto fa. all'interno di un mistero grande, insomma, di una certa libertà di azione che gli nasce, ovviamente con il concorso e le cattive volontà degli uomini che gli aprono le volte, insomma, no? Ma noi dobbiamo tenere i danni che continuamente combina tra noi mortali nelle cose apparentemente piccole, insidificanti, a cui non badiamo, facciamo caso. Oppure, oppure consideriamo di poco molto, oppure possono essere davvero, voglio dire, di grandissimi danni. Non essere precipitoso con la bocca. Quante volte? C'è stato qualche saggio che ha detto che mi sono sempre pentito, quasi sempre pentito di aver parlato, quasi mai di aver tassiuto. Quante volte noi parliamo precipitosamente, non lasciamo neanche finire una persona di parlare che la interrompiamo, o la aggrediamo. Io non voglio che ci viena a dire qualche piccola cosa, diretta o indiretta, cominciamo a vomitarli addosso alla montagna di difese, di cose che si è azzardato. L'essere precipitoso con la bocca è una cosa che non parla davanti a Dio, non è soltanto una cosa, come dire, umana, magari un po' antipatica. Non si fa né davanti agli uomini, né davanti a Dio, qui viene fatto l'esempio frequente di persone che, anche davanti al Signore, parlano in maniera un po' precipitosa, un po' avventata. Nel senso che a Dio non si fanno promesse, come diciamo noi comuni mortali del marinaio, non posso dire a Dio, io ti prometto questa cosa, e poi non solo io la faccio, ma addirittura pure dimentico, non si fanno queste cose. Perché la parola data è un punto d'amore e anche un punto di rettitudine tra noi mortali. Se io dico una cosa, non metto una cosa a una persona, do la mia parola, io quella cosa la devo fare. Ecco perché Gesù dice che non serve fare giuramenti, non serve come chiamo Dio a testimonianza del fatto che se dico una cosa la farò. Non serve, perché se io dico una cosa, quella cosa la faccio. Davanti a Dio, questo vale cento volte tanto, perché se io prometto a Dio di fare una cosa, una promessa fatta a Dio, è ancora più grande di una promessa fatta a nuovo. Allora i maestri di spirito distinguono sempre la promessa dal proposito. Il proposito di davanti a Dio possiamo farli, ma il proposito non è una promessa. Il proposito è un impegno, il Signore Dio mi impegnerò. Se ce la faccio a fare questa cosa, e poi dobbiamo impegnarci, perché a mio proposito non è che è una cosa detta tanto per dire, però non è come una promessa, c'è un voto quanto a Dio. Che se poi io non la vengo, non la debbi nel secondo comandamento, è un momento peccato multale. Non viene fatto, non si fanno queste cose con coraggerezza, no? Ecco, le nostre parole vere che siamo panche, dobbiamo essere ovviamente tacitudini, che non è una cosa bella alla fine di Dio, no? E però dobbiamo fare molta attenzione, a parlare bene, a usare bene questo peccato. Ecco, perché dalle molte chiacchiere viene il discorso dello stotto. Il Santo Teresa diceva che molto parlare non manca mai il peccato. E la chiacchiera, Papa Francesco dice sempre, è il chiacchiericcio che è quasi sempre maldicenza, pettegolezzo, ricamo, che non è altro che seminare di Dio, non è altro che togliere l'onore, buona fama, prossimo, non ci deve essere i nostri discorsi. Dobbiamo anche essere un po' più intelligenti nei figlioli di Gavi, ricordando qualche bel proverbio che ci fa bene, eh? perché le chiacchierie non solo non bisogna fare, non bisogna nemmeno ascoltarli. Perché il proverbio dice, mio mio, st'attento, se qualcuno davanti a te ti parla male degli altri, davanti agli altri, quando tu non ci sei, parla male di te. Chi c'è passato sa quanto queste cose siano veri. Oggi è il primo giorno della Madonna di Fatima, la Madonna, una piccola giacinta di Fatima, disse, questa è la storia di parole, non dire mai male di nessuno, ma di nessuno, per nessun motivo. D'accordo? E fuggi di chi dice male. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa, per farmi un po' con il getto di un proposito fermo, fermo. Molto salienti da meditare nel nostro silenzio personale, sono anche le parole di Poerite riguardanti il denaro e la ricchezza. Il denaro noi possiamo usarlo, ma dobbiamo sempre considerarlo come campo minato. Adesso quando noi tocchiamo qualcosa di scottante, ci scottiamo, quindi dobbiamo prenderlo con le vizie, dobbiamo certamente in qualche modo utilizzarlo, facendo sempre molta attenzione. perché il denaro chiede l'amore, che poi diventa compiligia e avarizia, ma chi il denaro lo ama, o la ricchezza, non detena un soltanto che non lo condivide, il che è già cosa grave, ma non li trae nemmeno conflitto. Qui ci sono molto avanti una serie di massime, dici, attenzione, primo, aumenti i soldi, aumenti i parassini, la gente che ti sta vicino non vuole godere i tuoi soldi, questa è un'esperienza comune, d'accordo? Dice, chi lavora, un po' romano, che campa di stipendio, dormi alla morte, d'accordo? Il rinco, spesso è un po' latino, non dormi, perché sta preoccupando. Ancora, ricchezze costruite dal governo al proprio danno, e ancora, se ne vanno in fumo, le ricchezze che non cattivo a fare. Io vengo da Latina, non voglio fare, a Latina ci sono dei casi famosi, insomma, di gente stralicca, caduta nell'astrico, e anche tragicamente, con esiti drammatici, ecco, delle vite, no? E, quello è beffa, che neanche i figli, che si tornano nuda, e che tornano nudi, così come sono usciti dal grembo della madre. E quindi uno che sa fare con una vita, accumulare, accumulare, soldi, soldi, ricchezze, ricchezze, ma non sa neanche cosa farne. Quale vantaggio? Ricca, guarda, che gente torna sui fatica al vento. Passa i giorni, in oscurità, nel pianto, fra molti guai, avanti e cruci. Questo è così, anche se apparentemente, nelle vetrine, specialmente moderne, la vita del ricco sembra così tanto splendente, ma così non è. Allora, la Sacra Scrittura dice queste parole, la ricchezza, anche se al mondo, non attaccate mai il cuore. I soldi non vanno alati. Il Signore ne ha parlato con un pericolo, non una cosa che ci porta, dottoramente all'inferno, ma che ci espone a molte tentazioni. Il rimedio per questo è la condivisione. E di ritenerci noi amministratori, per conto di Dio, delle ricchezze che abbiamo. Poche o tante che siano. Senti io, Papa Francesco, il giorno fa, fa una bellissima media, sinceramente mi ha fatto piacere, sono cose che, personalmente, ho detto in termini molto simili, in certe circostanze. Dice, ma, molta gente dice, ma io non posso condividere i miei beni, perché io non c'eravo oggi arrivare alla fine del mese, ma t'avanzerà qualche sottospeccio, c'è ora qualche monedina dentro il portaporto, 50 centesimi, un euro, due euro, condividi qui. Facciamo un po' di roba della vera, abbiamo sentito recentemente, i Vangeli per i anni, festini. Ah, ma non c'è neanche qui. Mi fatti una passeggiata, mi guarda roba. quanti vestiti c'hai? Quante scarpe c'hai? Proprio così, dice, che non usi mai, non metti mai, prendili, e dagli a chi sta a mondo. Questo non cosa niente, questo qui, no? sono tante piccole cose che noi non possiamo ignorare come figli, né pensare che il papà non fa niente. E non è che non fa niente, piano piano anche tu si avviciniamo al Signore, come siamo riscaldati dal suo valore, ma anche illuminati dalla sua luce. Ecco, siamo aiutati a entrare sempre di più nella verità di noi stessi, e anche nella verità delle cose. Quindi, le parole vanno distribuite poche e buone, invece le ricchezze vanno distribuite possibilmente a tanti, e a tutti, e per buone case. Sono dimensioni importanti nella nostra vita, perché chi ha la lingua senza bene, d'accordo, ed è egoista, trattiare le ricchezze e il versetto ci sono del Vangelo senza chi è davanti al Dio. questo uomo non conoscerà nella vita delle nera pace, mai, né tantomeno, la bellezza e la dolcezza che viene dall'amicizia intima e personale con Gesù. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. e ringraziato. Grazie. Grazie.